Ben ritrovati dalla redazione. Sebastiano Visintini, il marito di Liliana Resinovic, scomparsa il 14 dicembre del 2021 e trovata morte il 5 gennaio successivo, è stato querelato dai vicini di casa. L'accusa è quella di diffamazione aggravata. Visintini è stato rinviato a giudizio per questa imputazione. I vicini, Gabriella Micheli e Salvatore Nasti, si sono sentiti accusati da alcune dichiarazioni di Visintini nel corso di due apparizioni in una trasmissione televisiva in cui era ospite il 22 e 29 settembre del 2023. In quell'occasione, dalle dichiarazioni di Visintini, si sarebbero ricavate delle idee che i vicini, la sera della scomparsa, sarebbero entrati in casa sua e di Lilli con uno stratagemma e avrebbero buttato via qualcosa, forse le chiavi di casa. Visintini avrebbe fatto insinuazioni nei confronti degli assistiti che nel settembre del 2023 hanno quindi presentato querela, ha spiegato l'avvocato Francesco Mazza che assiste appunto Micheli e Nasti. Il PM, Maddalena Kerja, ha ritenuto che gli indizi potrebbero essere plausibili e dunque ha rinviato a giudizio Visintini. La prima udienza del processo è stata fissata per il 20 novembre al Tribunale di Trieste. Ancora nessuna novità in merito all'esame autoptico sul corpo di Zanna Russo, la 45enne cittadina ucraina trovata morta lo scorso 17 agosto nel sottotetto di un palazzo in via Fabio Severo dove alloggiava ospite dell'X. Dopo due mesi i risultati dell'autossia non sono ancora disponibili. I carabinieri che indagano sul caso, sono ancora in attesa di accertamenti più approfonditi. Non è dato sapere di quali accertamenti si tratti ma di sicuro le tempistiche sono dilatate rispetto alla norma, il che farebbe pensare ad una situazione più complessa del previsto. La Guardia di Finanza di Palmanova ha fermato una cisterna proveniente dalla Romania che trasportava un ingente carico di olio lubrificante destinato ad una società campana. Le successive verifiche hanno accettato che il prodotto, circa 1000 kg, era stato sottratto al pagamento delle imposte. Per questo è stato confiscato e sono state denunciate due persone. In accordo con la Procura della Repubblica, l'olio lubrificante è stato assegnato alla protezione civile del Friuli Venezia Giulia perché possa utilizzarlo per i propri fini istituzionali. È un quadro molto articolato a luce e ombre, come l'ha definito il presidente della Camera di Commercio Polvenone Udine Giovanni D'Apozzo, quello che emerge dall'osservatorio sull'economia del Friuli Venezia Giulia che il centro studi dell'ente camerale aggiorna elaborando semestralmente tutti i principali indicatori statistici. Emerge che le imprese sono stabili e anche indieve crescita, specie in alcuni comparti dei servizi e nelle costruzioni che trainano anche l'incremento dell'occupazione nel primo semestre, pur se il credito alle imprese risulta in forte contrazione, particolare per l'edilizia e le previsioni di assunzioni elaborate da Excelsior a partire dall'estate 2024, danno conto di un rallentamento della ricerca di personale da parte delle aziende rispetto al 2023. Il rallentamento è dovuto in gran parte il manifatturiero per cui questo 2024 sembra affermarsi come particolarmente complesso, complice senza dubbio il mercato tedesco in affanno su cui le imprese manifatturiere del nord-est del Friuli Venezia Giulia in particolare sono più esposte. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata, cielo coperto, probabili piogge deboli su pianure e coste in genere moderate sulla zona montana, localmente abbondanti sulle prealpi carniche, sulla costa e sulle zone orientali, Borino, dal pomeriggio Bora moderata, temperature massime ovunque fra 18 e 21 gradi centigradi, previsioni a cura di ARPA e FWG Meteo. Ed è tutto per il momento con informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.